Al via l'asta per la maglia di Diego Maradona nella partita argentina-Inghilterra dei mondiali di calcio 1986, quando segnò il celeberrimo gol con la mano di Dio. L'asta di Sotheby's a Londra fino al 4 maggio ha già ottenuto un'offerta da 4 milioni di sterline, ma l'obiettivo è arrivare a 7. Sotheby's ha confermato l'autenticità della camiseta numero 10 di proprietà del calciatore inglese OJ, messa in discussione da Dalma, una delle figlie di Maradona.